Ciao a tutti, benvenuti su Gossip e New Zita. Oggi analizzeremo gli ultimi sviluppi di un'incresciosa situazione che ha coinvolto il noto social chef Lorenzo Biaggiarelli, partner di Selvaggia Lucarelli, e il tragico caso di Giovanna Pedretti. Prima di iniziare, assicuratevi di iscrivervi al nostro canale, lasciare un mi piace e condividere le vostre opinioni nei commenti qui sotto. Ora, entriamo nei dettagli. Antonella Clerici ha svelato in diretta su Rai 1 che Biaggiarelli non parteciperà all'edizione odierna di E' sempre mezzogiorno a causa di un coinvolgimento in un fatto di cronaca. Secondo la conduttrice sessantenne, il social chef ha scelto di rimanere a casa e sarà presente nelle prossime puntate. Ma cosa è successo esattamente? Biaggiarelli è stato collegato alla vicenda di Giovanna Pedretti, titolare della pizzeria Glevignoleg di Sant'Angelo Lodigiano, trovata morta nel fiume Lambro. La donna era finita sotto i riflettori per una controversia legata a una recensione sul suo locale, e il social chef aveva sollevato dubbi sulla veridicità della storia. La discussione online sulle conseguenze delle parole di Biaggiarelli ha scatenato un dibattito acceso. Molti accusano lui e la compagna, Selvaggia Lucarelli, di aver contribuito al gesto estremo di Pedretti. Tuttavia, Biaggiarelli si difende su Instagram, esprimendo il suo dolore per la tragedia e respingendo le accuse dico odio social. L'invito di Biaggiarelli alla riflessione sulla verità e la critica ai messaggi di odio ricevuti chiudono il suo post. In questo momento difficile, è importante separare la verità dai rumor, riflettere sulle conseguenze delle parole online e cercare la comprensione reciproca. Ricordate di lasciare il vostro like se trovate il video interessante e condividete la vostra opinione nei commenti. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie di Gossip. Grazie per seguirci su Gossip e News Ita, ci vediamo al prossimo video.